carissimi amici e amiche buonasera una santa sera da tutti ben venuti o ben ritrovati su questo ciclo di catechesi dedicata all'antropologia cristiana cattolica si intitola il ciclo il mistero dell'uomo appunto dire mistero dell'uomo vuol dire abbiamo detto diverse volte che parlare di una realtà come mistero vuol dire che una realtà appunto teologica quindi a che fare con dio e quindi che ci sono delle cose rivelate su questa realtà che ci hanno delle conoscenze vere certe e reali ma come tutti quanti tutti quanti misteri come tutte le realtà che hanno a che fare con dio non perfettamente controllabili e appunto comprensibili in questa vita appunto perché sono misteri la volta scorsa abbiamo terminato la rassegna patristica e cominciato a vedere qualcosa di santo ammaso da qui ne abbiamo fatto introduzione vedendo le sue tesi diciamo così di fondo nell'andare ad affrontare la problematica dell'uomo è chiaro che santo ammaso dice tante cose per cui andrei di corsa ad andarcele a gustare senza di non darmi troppo nelle introduzioni allora anzitutto vediamo cosa dice santo ammaso per ciò che concerne la protologia ecco questa è un'altra parola come diverse parole teologiche e mediche originata dal greco protos significa il primo e logo lo via discorso un discorso sulle cose prime c'è l'escatologia che è il discorso sulle cose ultime e la protologia protos significa il discorso sulle origini quindi è molto importante sulla base del racconto della genesi quindi che parla della creazione dell'uomo come perfetta e come culmine della creazione perché questo è il concetto è e poi di una decadenza dell'uomo a causa del peccato originale post peccato originale quindi i teologi sono chiesti sempre ma beh ma come stava che quale era la condizione dell'uomo pre la psaria quindi prima della caduta a santo ammaso è stato un ottimo sistematizzatore della condizione dell'uomo delle origini che ci fa venire sempre un po di nostalgia per per non dire forse un po di santa invidia come era l'uomo allora era anzitutto pieno di doni soprannaturali soprattutto la grazia santificante e la partecipazione alla natura divina o di queste cose per chi volesse andarle poi veramente ad approfondire santo ammaso ne parla nella prima parte della somma teologie in nove questioni e quindi la questione dal 94 102 più farò una sintesi proprio proprio sintesi sintesi o l'uomo stava peraltro in stato cosiddetto di integrità originale o di giustizia originale o di natura integra sono terminologie sinonimiche negli scritti di santo ammaso che cosa vuol dire la natura integra vuol dire che c'è un ordine perfetto cioè la ragione è perfettamente sottomessa a dia a dio le passioni quindi le le forze inferiori quindi la cosiddetta parte inferiore dell'anima così la denomina santo ammaso sottomessa alla ragione e il corpo all'anima è tanta roba c'è lo stato di integrità amici cari e spero che potrà fare qualche piccolo esempio così d'accordo cosa vuol dire la ragione effettamente sottomessa a dio significa tanta roba significa o per ragione si intende come dire la 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 sintesi no dell'intelletto con con la volontà no effettamente soggetti a dio e vuol dire le passioni sottomesse no alla ragione che non vanno mai non escono mai fuori dal seminato non ti portano mai non trascinano mai la volontà nel peccato e il corpo all'anima poi la scienza infusa e la sapienza straordinaria scienza infusa noi oggi abbiamo soltanto la scienza acquisita per impararci qualche cosa si possiamo impararci tante cose sempre limitatamente quante lauree si può prende 1 3 4 5 10 dopo la vita finisce con il corso di laurea ci vogliono 4 5 anni se uno si prende 10 laurea vuol dire che devi studiare 50 anni 20 to quante lingue si vuole imparare qualcuno 10 15 20 poi però c'era più con la scienza infusa i problemi sono belli che finiti la sapienza straordinaria la capacità di giudicare vedere le cose come le vede come le giudica dio e poi attenzione doni preternaturali cioè anzitutto l'immunità dalla concupiscenza l'assenza della concupiscenza l'immortalità e l'impassibilità cioè l'immunità dalle malattie e dalle sofferenze da roba è a infine ci aveva anche l'uomo chiaramente stato di natura integra e doni naturali cioè un corpo animato dall'anima razionale e la scienza acquisita un bel quadro questo è un quadro su cui la chiesa ci ha messo tranquillamente l'imprimatur e condivide questa visione ora che cosa succede con il peccato originale cosa fu e quali le sue conseguenze ovviamente santo ammaso non entra nel merito della post della possibile diciamo così specificazione del peccato originale a differenza di come fecero diversi anche se la sua posizione in verità esclude una certa visione del peccato originale propria della patristica ed è una delle cause per cui quella visione ne è caduta in disuso per chi volesse approfondire tutte quante queste cose che sto accennando c'è un circo di catechesi che ho fatto l'anno scorso che si chiama il peccato originale all'origine di ogni male dell'anno 2022-2023 credo o di due anni fa uno dei due purtroppo ogni tanto la mia testolina con tutte le cose che faccio comunque basta cercare il peccato originale la playlist podcast o youtube il peccato originale all'origine di ogni male a mio nome e ci sarà tutto quanto l'approfondimento di questo ora santo ammaso fondamentalmente si limita ad asserire per ciò che è stato il peccato originale che è consistito in un allontanamento da dio cioè un grave disordine ovviamente quindi una trasgressione ad un comando divino che ha comportato un allontanamento da dio ed una conversione verso i beni mutevoli si dice tecnicamente in latino questa cosa che poi è l'elemento costitutivo di ogni peccato aversio ad eo e conversio ad creaturas dopo il peccato originale che cosa succede? che si passa dallo stato di natura integra a quello di natura corrotta natura corrotta non persona corrotta cioè il peccato originale non ha corrotto Adamo ma ha corrotto la natura di Adamo non la persona di Adamo e quindi in quanto coinvolge la natura e non la persona si trasmette ai discendenti di Adamo e si trasmette per propagazione cosa ha perso l'uomo? quasi tutto perché ha perso i beni sopranaturali cioè la grazia e l'integrità ha perso i beni preternaturali cioè l'immunità dalle malattie dalla concupiscenza dalla morte e dalla sofferenza gli rimangono i doni naturali ma sono indeboliti peraltro e soprattutto il peccato originale ha creato tra virgolette il fomite della concupiscenza cioè il rifiuto delle facoltà inferiori di sottomettersi alla volontà che ha perso l'impero su di esse per essersi ribellata alla legge di Dio chiaramente la concupiscenza si manifesta in maniera violenta soprattutto in ciò che ha a che fare con la sfera della cosiddetta libido quindi Rebus Ixtantibus qual è la condizione dell'uomo decaduto sempre secondo San Tommaso la sua natura è corrotta ma non del tutto come pensavano invece i luterani quindi può fare del bene naturale ma non può evitare ogni male soprattutto non può compiere azioni meritorie davanti a Dio perché è privo della grazia santificante cioè non è che una persona che non è in grazia tutto quello che fa è necessariamente male o sbagliato perché può compiere delle cose naturalmente buone eticamente buone ma quel bene non è meritorio davanti a Dio quindi merita una ricompensa con beni temporali non con la vita eterna perché appunto compiuto fuori della condizione di grazia di Dio e qual è la pena principale del peccato originale questo è un spettacolo San Tommaso ogni tanto questo si trova nella prima seconda siamo andati avanti con la somma qui sto facendo una carrellata che non finisce mai nella questione 87 dell'articolo 7 cito proprio tra virgolette Dio lascia l'uomo in balia della sua natura decaduta ora le piaghe che si porta dietro la natura ferita dal peccato originale vestite ma anche ferita se uno è ferito vuol dire che c'ha delle piaghe quali piaghe ci abbiamo noi eh anzitutto la fragilità che cos'è la fragilità la mollezza nel perseguire il bene l'ignoranza cioè la difficoltà dell'intelletto a conoscere il vero e il bene non lo sa a priori e per conoscerlo deve tribolare poi c'è la malizia purtroppo quella che fece dire a San Paolo non scompio il male che voglio il bene che voglio ma il male che non voglio cioè il naturale orientamento della volontà al male è pazzesco questo qui perché la volontà è stata di per sé creata da Dio per orientarsi al bene noi adesso ci abbiamo un gap di partenza San Paolo Romani capitolo 8 per chi vuole approfondire e la concupiscenza cioè la tensione disordinata e continua verso i beni transitori e materiali soprattutto venerei o sensibili queste piaghe inflitte costituiscono congiuntamente considerate la grande ferita inferta alla natura romana al peccato originale e che ci rende estremamente vulnerabili estremamente deboli e quindi estremamente a rischio di perdizione dannazione di fallire l'obiettivo per cui siamo stati creati che è raggiungere la visione in beatifica ora che cosa è successo dentro questa realtà che il verbo di Dio ci è fatto carne ed è venuto a redimere l'uomo ora che cos'è la redenzione dell'uomo decaduto Cristo verbo incarnato redime l'uomo perché lo riconcilia con Dio toglie la versio ad Eo e lo immette in una condizione nuova quindi non lo stato di natura integra non lo stato di natura decaduta ma lo status nature risanate in latino lo stato di natura risanata ora l'uomo redento recupera la bellezza dell'immagine di Dio offuscata dalla colpa può conoscere ed amare Dio grazie all'infusione della grazia santificante e quindi attraverso la grazia santificante il processo degenerativo della versio a Deo viene compensato con quella della conversio a Deo che è il contrario può in questo modo l'uomo raggiungere la visione beatifica che è il suo fine ultimo certamente i beni perduti l'assenza della concupiscenza i beni preternaturali sono tutti perduti e la debolezza e diciamo così la non perfezione di quelli naturali rimane la cosa fondamentale è che la redenzione ci ridona la grazia che è il fondamento il principio della nostra possibilità di salvezza ora che cos'è la grazia santificante dice santo omaso è un dono soprannaturale gratuito prodotto da Dio nell'uomo che lo eleva alla partecipazione al bene divino e alla vita soprannaturale tanta roba secondo santo omaso la grazia è un abito qui bisogna familiarizzarsi con questi termini o una forma o qualità soprannaturale infusa da Dio nell'anima in modo che sia capace di compiere gli atti necessari a raggiungere la bellitudine con prontezza e sua vita la grazia rigenera l'anima la vita divina e comunicando la natura divina attenzione all'essenza stessa dell'anima quindi noi non abbiamo idea nemmeno lontani anni luce di quanto sia meravigliosa un'anima in grazia se la potessimo vedere ci si spaccherebbe il cuore dalla gioia e chiaramente di contro l'orrore di un'anima che in grazia non è ora insieme alla grazia sono state infuse evidentemente le virtù teologali che derivano dalla grazia scrive sempre il dottore angelico e sono ordinate ad essa e servono a disporre le singole potenze a compiere gli atti soprannaturali la fede dispone l'intelletto a partecipare alla conoscenza divina la carità dispone la volontà a partecipare all'amore di Dio e la speranza dispone la memoria a pensare alle cose di lassù e attendersi di aiuto divino san tommaso la quina prima seconda la questione 110 l'articolo 4 bellissimi questa è una bella sintesi anche abbastanza veloce del pensiero dell'aquinario dobbiamo andare un pochino veloci ora sempre per quanto riguarda l'antropologia scolastica che abbiamo inaugurato la volta scorsa l'altro grande pensatore grazie a Dio questo buono sano e santo che è un po' l'alte regole di San Tommaso perché rappresenta appunto la scuola francescana è San Bonaventura da Bagno Reggio cosa dice San Bonaventura da Bagno Reggio quasi contemporaneo di San Tommaso da Quino 1217 1274 e entrambi sono morti lo dico sempre quando parlo di loro mentre si regavano al concilio di Lyon che sta proprio nel 1274 un concilio a cui avrebbero dovuto essere presenti entrambi niente proprio di meno che San Tommaso da Quino e San Bonaventura e invece c'è arrivato nessuno dei due chissà che sarebbe successo a quel concilio se ci fossero stati questi due fuori classe del pensiero non solo teologico ma del pensiero del pensiero sono veramente dei geni ora San Bonaventura è chiaramente da buon francescano agostiniano e platonico quindi è stato definito un agostinismo platonizzante quello di San Bonaventura San Bonaventura era molto amato da da Joseph Ratzinger poi Papa Benedetto XVI io personalmente quando ho fatto la mia tesi dottorale c'era un capitolo dedicato appunto al Medioevo in cui ho dovuto a mia volta dare una bella letta non integrale ma insomma di diverse cose alla tesi dottorale di Joseph Ratzinger che fu proprio sulla teologia della storia di San Bonaventura bellissimo testo insomma però non chiaro non molto accessibile come tutte quante le tesi dottorali le tesi dottorali in teologia sono un po' per addetti ai lavori quindi perché sono pubblicazioni scientifiche quindi scritte in un certo modo con un certo linguaggio con una certa cura dettagliata delle fonti quindi non sono come libretti divulgativi che sto mettendo faticosamente in giro in forma cartano una tesi dottorale è una pubblicazione scientifica quindi San Bonaventura si mise però essendo appunto su questa linea in linea avversa rispetto all'aristotelismo teologico anche nella sua applicazione antropologica vedremo brevemente adesso quella che si chiama tecnicamente l'antropologia esemplarista di San Bonaventura perché si chiama così lo capiremo subito no ci sono cinque forme possibili di somiglianze dell'uomo con Dio per la natura per la natura comune la prima possibilità per esempio le tre persone divine si somigliano tra loro per la natura comune perché sono tutti e tre veramente Dio oppure la partecipazione ad una natura universale o genere per esempio sia l'uomo sia il cavallo che l'ape pur essendo abbastanza distinti però a quale genere appartengono al genere animale l'uomo è un animale di natura razionale sì ma anche l'uomo appartiene come genere prossimo all'animale poi una somiglianza di causalità in modo tale che l'effetto sia sempre simile alla causa per esempio come si assomigliano padre e figlio e infine di esemplarità ecco l'esemplarismo la topologia esemplarista la copia è simile al modello ora secondo San Bonaventura la somiglianza dell'uomo con Dio riguarda il numero 3 il numero 4 e il numero 5 cioè è di proporzionalità di causalità e di esemplarità alla terza la somiglianza di proporzionalità è basata su ragioni di corrispondenza per esempio l'autista guida il taxi il marinaio guida la barca ecco la somiglianza dell'uomo con Dio si realizza a livello di proporzionalità di causalità e di esemplarità con tutte le creature scrive San Bonaventura l'uomo condivide l'avere in sé le vestigia dei le chiama così le vestigia dei sono presenti in tutte le creature le vestigia le tracce in qualche modo in qualche cosa questo è presente ovunque non solo in tutti gli esseri umani ma in tutto il creato ma solo nell'uomo è presente l'immagine di Dio in ogni uomo e la somiglianza con la trinità ovviamente solo nell'uomo in grazia secondo San Tommaso San Bonaventura San Bonaventura è stato un grande assertore della analogia psicologica dell'uomo cioè le tre facoltà dell'uomo intelletto memoria volontà sono l'immagine della trinità riflessa nell'anima la memoria è il padre l'intelletto è il figlio la volontà è lo spirito santo è nel senso che è riverbero quindi è una analogia psicologica infine la somiglianza con Dio si ha quando l'uomo rendendosi conto di chi è e a chi assomiglia comincia a comportarsi in maniera degna amando Dio e creature per amore di Dio senza questa somiglianza l'uomo si rende simile alle creature inferiori e quando l'uomo si degrada l'immagine di Dio non si perde ma ne resta profondamente offuscata qui basta che ci guardiamo un pochino intorno quando una persona è un grande peccatore la somiglianza con Dio è bella candata ma si si stenta a volte a vedere anche l'immagine di Dio in una persona che che esagera in questo modo no e più o meno questo è quanto dice San Buonaventura possiamo concludere tanto per sintetizzare un po' che come come tipico della dell'ambiente della scuola serafica francescana San Buonaventura è un deciso assertore del primato della volontà e dell'amore rispetto all'intelligenza secondo questo corrente di pensiero teologico la teologia è una scienza più mistica che speculativa perché serve a rendere felici ed uniti a Dio più che a diventare sapienti e colti su Dio questo è un tema tipico della scuola della scuola francescana cioè qui non si tratta di fare un discorso erudito o di assimilare una conoscenza fine a se stessa o sterile ma si tratta di una conoscenza che ti porta direttamente tra le braccia di Dio per cominciare a vivere fin da questo modo l'uomo raggiunge l'unione con Dio attraverso tre gradi qui c'è un riflesso dell'antichissima dottrina patristica dei principianti dei proficienti e dei perfetti allora c'è la via purgativa anzitutto e questa dobbiamo a un certo punto percorrerla tutti quanti che è quella del distacco da peccato il primo step poi c'è quella illuminativa cioè l'acquisto e la crescita nelle virtù e infine quella unitiva la perfezione della carità è una vita ordinaria o anche mistica di unione con Dio visto San Buonaventura vediamo anche il terzo ed ultimo autore di oggi il principio il principio della fine muoiono San Tommaso e San Buonaventura e sei anni dopo nasce Guglielmo D'Occam qui siamo 1280 1349 che cosa si inventa Guglielmo D'Occam anzitutto il contesto storico è quello della scolastica che però con lui comincia ad entrare nella fase decadente il grande tentativo della scolastica era stato pur con le posizioni differenti che sinteticissimamente quasi da farmi vergognare ho cercato di gratteggiare perché vorrei andare veloce perché questo non è un argomento dove dilungarsi troppo però avevano comunque cercato di trovare un'armonia tra fede e ragione e soprattutto fiducia nel potere della ragione in teologia e filosofia quindi noi possiamo approfondire e conoscere qualcosa un po' meglio allora Guglielmo D'Occam comincia ad asserire alcune cose molto preoccupanti primo che la conoscenza umana non avrebbe un valore universale ed oggettivo infatti secondo lui la conoscenza ha come oggetto solo le cose particolari da cui poi l'intelletto astrae e universalizza ma dice no la conoscenza cade sempre sulle cose particolari che sono soggette al principio di verifica l'altro grande problema di questo pensatore è il nominalismo perché attenzione se la ragione umana conosce soltanto le cose particolari quindi non è in grado di fare un processo di astrazione per giungere una conoscenza universale non coglie la sostanza delle cose e quindi e quindi i nomi dati dalle cose cosa sono non fanno conoscere la cosa per quello che è ma sono segni arbitrali che potrebbero tranquillamente essere sostituiti da altre cioè io chiamo il cane cane giusto il nome cane è una convenzione avevo potuto chiamarlo cappero sto semplificando però questo è certo la convenzione ormai abbiamo appiccicato l'epiteto cane e chiamiamo cane va bene ma attraverso i nomi tu non raggiungi mai la sostanza di una cosa perché non fa conoscere la cosa per quello che è guardate che questo amici cari è proprio l'inizio della fine vedete però la linea su cui si mette Guglielmo D'Occam è quella del volontarismo francescano allora la volontà è la proprietà più grande e più importante dell'uomo secondo lui perché lo fa libero non l'intelletto questo concetto un po' altra cosa l'assoluta trascendenza e libertà di Dio cioè la sua volontà può fare quello che vuole inutile indagare su perché può portare un peccatore in paradiso ed un giusto all'inferno stesso discorso vale per le leggi della creazione allora questo volontarismo estremo Guglielmo D'Occamo trasferisce nell'operazione dell'altissime dice Dio fa quello che vuole inutile indagare sul perché però attenzione Dio fa quello che vuole questo è ovvio ma Dio non fa cose assurde quindi questo volontarismo estremo non funziona perché voi immaginate se uno applicasse la lettera a queste cose in forza di essa per esempio come fa la chiesa a discernere per esempio su un'apparizione riconosciuta come fa? fa proprio questo tipo di operazione cioè cerca dei riscontri oggettivi che possano conclamare la veridicità del fatto giusto? quindi è chiaro che Dio fa quello che vuole ma noi dobbiamo avere fiducia nel fatto che se ci mettiamo dinanzi alle opere di Dio con umiltà è lui qualcosa ce l'ha rivela ce l'ha detto oh attenzione anche qui la grazia dice sempre Guglielmo Dockham non è un habitus quindi una disposizione stabile dell'uomo comunicata da Dio no ma un decreto di Dio anche qui la dà a chi vuole come vuole quando vuole non modifica le condizioni interiore dell'anima e può anche prescinderne per salvare qualcuno vedete il volontarismo tutte queste cose sarebbero poi state prese radicalizzate ulteriormente da Martin Lutero quindi è chiaro che Dio dà le cose a chi vuole certamente ma dire che la grazia non è un habitus ma un decreto di Dio è dire un po' troppo conseguentemente ecco il veleno proprio terrificante le opere dell'uomo non incidono sulla sua salvezza non incidono perché tanto se Dio ha deciso che tu non ti salvi non servono opere ora è stato chiamato per la Gianesimo Ocamiano una peculiare posizione di Guglielmo d'Occam che afferma che pur essendo inutili per la salvezza i comandamenti senza la grazia l'uomo però senza la grazia può e li deve osservare sono inutili per la salvezza perché l'uomo non sta in grazia però li deve osservare gli esiti di questo tipo di operazione sono un volontarismo quasi assoluto e quindi una quasi totale incomprensibilità di Dio nel suo agire bello questo tipo ma è vero Dio è questo e quindi questo a che cosa porta che c'è un fideismo quasi assoluto dell'uomo che deve rinunciare a comprendere l'uomo deve rinunciare a comprendere tutto questo sì perché altrimenti i misteri non sarebbero misteri ma non non deve rinunciare a comprendere quel po' che si possa comprendere quel qualcosa guai a noi guai a noi quindi attenzione quando prendono queste cose ah che bello no no è il primato della volontà io ho molte ho molte riserve perché la divina volontà anzitutto è la perfezione assoluta giusto? qui abbiamo visto nella sistematizzazione di Guglielmo d'occa proprio un versante opposto ora abbiamo l'antropologia cosiddetta moderna quella che come dire comincia ad andare in auge con la riforma protestante e poi il concilio di Trento come la la formula gli sviluppi post post concilio di Trentino e poi ahimè dico ahimè perché la svolta antropologica moderna c'è un capitolo che purtroppo adesso dovremmo parlare di uno dei più grandi resiarchi della storia cioè Martin Lutero 1483 1556 sapete quando si parla di Lutero si fa subito riferimento alla famosa esperienza della torre avvenuta quando lui aveva 30 anni era una persona molto intelligente come sapete era un monocono costiniano era stato da poco neonominato docente di saga scrittura Wittenberg dove sarebbero state attaccate le famose 95 tesi sulla porta della cattedrale no e lui studiava nella torre del castello arriva a Romani 1 17 ed ha a suo dire una improvvisa illuminazione sulla natura della giustificazione una vera e propria conversione intellettuale spirituale evidentemente andiamo un attimo a vedere cosa dice Romani 1 17 perché altrimenti non possiamo andare avanti quindi un attimo di pazienza che avrò il software andiamo a vedere scusate Romani 1 17 dice è in esso quindi nel Vangelo che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede come sta scritto il giusto di grande mediante la fede con questa roba esperienza della torre quindi tenete presente che San Guterro era sempre uno spirito un po' inquieto quindi si chiedeva sempre come il Signore potesse fare che ci ha salvato come me perché capisce questa cosa e dice e comincia ad affermare la giustificazione è opera tutta ed esclusivamente di Dio in nessun modo dell'uomo secondo solo Dio rende giusto il peccatore mediante il sacrificio della croce del figlio però rende giusto il peccatore è cosa che nell'antropologia luterana bisogna spiegarla molto bene perché l'uomo giusto non ci diventa mai quindi è semplicemente una applicazione ma non un'applicazione vera un essere coperti come se stessimo sotto una coperta dai meriti di Cristo perché se mi mettono sotto una coperta il mio corpo non si vede più chi mi vede vede la coperta quindi Dio Padre secondo Lutero che cosa avrebbe mandato a fare la nostra se guarda a preparare una bella coperta per il genere umano se non li fulmino e quindi lui fa vedere che tutti quanti sono stati da lui gli denti per cui sta coperta se vogliono se la possono mettere quindi la giustificazione è tutta opera esclusiva di Dio in nessun modo dell'uomo secondo solo Dio rende giusto il peccatore mediante il sacrificio della croce terzo la salvezza è dovuta attenzione alla sola misericordia di Dio quindi penitenze preghiere digiuni sacramenti indulgenze non servono assolutamente a nulla scrisse un'opera San se non un'opera che si chiama il de servo arbitrio che già è il nome un programma perché evidentemente i luterani non credono né nell'importanza né nella potenza del libero arbitrio ancora no ancora no stop quindi capiamo attenzione non vorrei sembrare polemico ma guardate che molte di queste cose oggi sono entrate ahimè nel pensiero che ancora si professa cattolico ora chiaramente il consiglio di Trento ha reagito in maniera forte a questi principi ora prima di andare a vedere l'antropologia riformata approfondiamo ulteriormente quella luterana dentro questa esperienza della torre lutero era convinto di aver avuto un'illuminazione divina troppa chi era lutero lutero era un'anima scrupolosa insoddisfatta di sé in stato di ansia perpetua si riteneva inadeguato e pensava di dover fare chissà cosa per il nostro signore siccome vedeva che faceva poco era convinto che il signore non fosse contento di lui non si sentiva apposto davanti a Dio quindi che fa la dottrina della giustificazione per sola grazia lo faceva uscire dal stato di ansia perché se Dio mi giustifica lo fa lui e lo fa per grazia non devo fare nulla tutti i problemi che mi porto dietro cessano di esistere capite che roba no per quanto riguarda il commento alla lettera dei romani la giustizia di Dio di cui abbiamo letto la lettera dei romani nel 17 è quella che Dio conferisce all'uomo rendendolo giusto non è la giustizia per cui Dio è giusto ma la giustizia lui la chiama passiva cioè quella con la quale Dio rende giusto l'uomo mediante la fede poi scrive il commento e la stessa cosa scrive nel commento la lettera dei Galati che la lettera dei Galati non è difficile credere che siano stati chiamati in battaglia di Lutero perché gli appigli per queste stupidaggini si trovano proprio nelle lettere Romani e Galati dove in polemica con alcuni avversari della fede San Paolo accentua la dimensione vera della gratuità della salvezza ma questo non è una dimensione automatica e prescindente dalla risposta dall'accoglienza e dalla cooperazione della creatura per quanto riguarda la sua visione per esempio della lettera dei Romani Lutero dice guardate la natura dell'uomo è completamente corrotta è assolutamente incapace di fare il bene e attenzione secondo Lutero la concupiscenza che sarebbe l'inclinazione ma è essa stessa un peccato andiamo tutti quanti all'inferno se fosse così la chiesa si è appresentata che la concupiscenza è un'inclinazione al male ma non è essa stessa un peccato detto questo la giustificazione è assolutamente gratuita e consiste nel dichiarare l'uomo giusto l'uomo peccatore coprendolo con i meriti di Cristo dichiarare non renderlo giusto la chiesa come vedremo ha detto no no qui non si tratta di creare una condizione fittizia falsa cioè lo dichiaro perché Gesù Cristo l'ha coperto ma se poi si dovesse sottrarre non posso dichiararlo più perché rimane un gran peccatore capite no e attenzione nel processo di giustificazione passiva le eventuali opere del peccatore non hanno nessuna importanza sono totalmente ininfluenti le opere le cosiddette opere sono segni della venuta giustificazione se proprio uno ha voglia di farne qualcuna non troppe perché dopo la giustificazione la chiesa non ha mai pensato questo perché l'uomo che si aiuta come può quindi cooperando con l'azione della grazia specialmente nella fase in cui c'è la presa di coscienza del peccato la conversione eccetera quindi questo non è cosa da non farsi questa è cosa da farsi assolutamente ok possiamo finire l'utero oggi sì allora ricapitolando dove siamo arrivati per ora abbiamo visto il commento di Lutero alla lettera ai romani quello che dice la giustificazione ora commentando le lettere galati sempre con questo spirito polemico Lutero come dire pone una distinzione tra giustizia aristotelica e giustizia cristiana secondo Aristotele la giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo questo lo avrebbero ovviamente fatto proprio anche i romani mentre la giustizia cristiana secondo Lutero non è non consiste nel dare a ciascuno il suo ma la giustizia è la fede in Gesù Cristo ovvero la fede con cui si crede in Gesù Cristo poi la giustizia secondo la legge e la giustizia secondo la fede i temi tipici della lettera ai gamati la giustizia secondo la legge è quella compiuta con le proprie forze che è servile mercenaria finta e speciosa mentre la giustizia secondo la fede è proprio di chi non confidando nelle proprie forze si prostra a Dio come pubblicano invocando pietà e la giustizia di Cristo viene importata al credente e cessano tutte le leggi e le opere della legge vedete che è sempre la stessa cosa allora in sintesi secondo Lutero poi direi che ci possiamo fermare la giustificazione è questa c'è uno spostamento attenzione del binomio grazie a carità tipico di tutta l'antra scolastica a quello fede giustificazione poi c'è un cambiamento del principio ermeneutico quindi Lutero rifiuta tutti gli schemi antropologici costruito con l'ossidio delle categorie filosofiche per lui la filosofia è la veste bubonica si torna alla fonte unica che è la Bibbia intesa come parola scritta infine l'antropologia personalista di Lutero è imperniata sul rapporto tra Dio e il singolo ecco perché sono usciti dal mondo del proprio dei santissimi grandi pensatori come Kierkegaard per esempio che se uno lo legge dice ma questo è un bellissimo credente è colui che si è proprio immerso nel suo rapporto personale con Dio allora secondo Lutero da parte dell'uomo c'è solo superbia concupiscenza peccato disperazione invece da parte di Dio c'è compassione misericordia che giustifica il peccato perché tuttavia erita male tale c'è una formula tecnica che ovviamente i parruci sanno anche le parrucchiane sanno che è albente moferentis no scusate ho fatto un attimo di da parte di Dio stavo dicendo la compassione misericordia che giustifica il peccatore che tuttavia tale rimane che cosa dice Lutero non c'è una giustificazione reale dell'uomo no rimane al tempo stesso simul justus perché perché coperto le mani di Cristo e peccator perché perché è rimasto tale non c'è una giustificazione reale un cambiamento un'operazione della grazia che ti si pianta nell'essenza abbiamo visto tocca l'essenza dell'anima e fino a quando tu non la cacci col peccato mortale ti rende gradito al Signore ti rende giusto ti consente di fare opere sante tutto questo sparisce in questa antropologia personalista impregnata sul rapporto tra Dio e il singolo c'è nato appunto Soren Kierkegaard e per cui e con questa diciamo così separazione incolmabile ed esagerata guardate i danni che hanno fatto queste cose sono veramente impressionanti almeno dal fatto mi riguarda il problema è che in molti ambienti nostri tutte queste cose adesso sono entrate di più a livello di singoli a livello di pensiero ma anche a livello ecclesiale anche a livello di comunità ecclesiali anche a livello di movimenti ecclesiali ecco la prossima puntata andremo a vedere con attenzione la risposta fermissima del concilio di Trento a queste cose perché è veramente impressionante il danno che se veramente credute così come sono state formulate possono fare ecco quindi ci vediamo alla prossima puntata riprendendo appunto dalla reazione del concilio di Trento a queste tesi io benedica e la santa vergine di ipoteca e la santa vergine